98 pagine fitte e complete che passano al setaccio in maniera approfondita i conti dell'ente modicano. Un bel malloppo di pagine che detta le necessarie prescrizioni che devono essere adottate con urgenza dall'ente comune per rendere attendibile e congru il piano di riequilibrio. Ne dà notizie il consigliere comunale di Sinistra Ecologia e Libertà Vito D'Antona dopo aver letto il contenuto del lungo documento. La Corte dei Conti pur approvando il piano che fu adottato per evitare il dissesto finanziario del comune, dice D'Antona, impone una serie di adempimenti da adottare finalizzati e superare tutte le criticità. Adempimenti sottoposti a costante verifica da parte della stessa Corte. In primo luogo e dentro il 31 dicembre di quest'anno la ricostituzione degli equilibri di cassa e la copertura dei debiti assunti. La Corte dei Conti in maniera approfondita conferma la gravissima situazione finanziaria del nostro comune e la persistenza ancora oggi delle criticità che nel 2012 senza l'adozione del piano di riequilibrio avrebbero obbligato il comune a dichiarare il dissesto. In un quadro di preoccupante assenza di chiarezza nella situazione finanziaria la Corte impone la necessità di superare i fattori di squilibrio che da anni sono oggetto di dibattito politico. La Corte dei Conti prosegue D'Antona al fine di considerare affidabile il piano richiama il comune ad un'azione precisa e puntuale per eliminare il persistente ricorso alle anticipazioni di cassa paradossalmente incrementato anche in presenza del prestito della cassa dei depositi e prestiti incrementando le entrate dei tributi degli anni precedenti che nell'ultimo triennio hanno registrato il dato peggiore di riscossione. In pratica si deve procedere subito a coprire finanziariamente tutti i debiti fuori bilancio sorti in questi anni a razionalizzare la gestione delle società partecipate, a rivedere gli avanzi di amministrazione degli ultimi due anni condizionati dalle entrate per tributi pregressi scritti nei bilanci non riscossi. Purtroppo l'emergenza finanziaria non è ancora finita e il rischio dissesto torna imperante.